E' finita l'estate, il 18 settembre ci troviamo a Pescara e sono ricominciati gli appuntamenti di formazione dedicati ad architetti e progettisti firmati da Action Group Editori. Il workshop di info progetto di quest'oggi organizzato in collaborazione con l'ordine di architetti e paesaggisti della provincia di Pescara e dedicato all'involucro edilizio, all'isolamento termico ed acustico. Vediamo. Noi progettiamo sistemi in alluminio per l'edilizia, il nostro prodotto viene acquistato dal fabbricante di serramenti e poi installato. Noi oggi abbiamo presentato Apex Fine, che è il nostro prodotto alto di gamma, scorrevole tutto vetro, soluzione frameless, la caratteristica è quella delle ampie portate, alto isolamento termico e ottime performance di tenuta aria e acqua e vento. Ma Apex Fine non è soltanto l'unica nostra soluzione, noi abbiamo tante soluzioni sia per il rinnovo che per il nuovo. Il mondo del seramento in alluminio negli ultimi anni ha fatto passi da gigante in merito a soluzioni sempre più performanti e il plus dell'alluminio rispetto agli altri materiali è sempre più quello della durata del tempo. Devo dire che il rapporto con il progettista è un rapporto molto interessante, un rapporto costruttivo, il progettista ci chiede sempre di più, ci chiede prodotti, magari ci chiede prodotti del futuro e la nostra bravura deve essere quella di interpretare le loro esigenze rispettando quelle che sono le regole del mercato. Altra caratteristica dell'alluminio è quella dell'estrema lavorabilità e la possibilità di fare tante tante tipologie, quindi è un materiale che va incontro proprio all'esigenza di un'edilizia moderna che ha canoni sia estetici che obblighi e obiettivi di essere sempre più performanti e andare incontro quindi al risparmio energetico. La sala era piena, c'erano più di 200 professionisti, noi siamo un'azienda abruzzese quindi la partita ce la giochiamo in casa e per noi è stato più semplice partecipare, conosciamo diversi architetti che sono intervenuti, il profilo è alto e quindi siamo tutti molto contenti.